Non si interviene per l'emergenza, qui vi è un intervento su un reticolato idrico che può dare molta razionalità nella tenuta e conseguentemente nell'arrivo a valle delle acque di un bacino, quello dell'Arno, che sappiamo quanti danni dal suo carattere tonnellitizio ne ha vissuto in passato. Quasi un milione e mezzo di euro per la mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Faella, nel comune di Castelfranco Piendiscò. Si è infatti concluso il primo lotto di lavori sul torrente Rantigioni, realizzato grazie ad un finanziamento della regione toscana su un progetto presentato dall'Unione dei Comuni del Prato Magno. Il primo lotto consta praticamente dalla realizzazione della cassa di espansione che vediamo qui e dalle interventi sui due bracci che costituiscono i borri Rantigioni nel suo bacino in Bifaramonte. I due interventi sui bracci hanno permesso di aumentare i tempi di corrivazione dei due affluenti e quindi permettendo di distribuire nel tempo in maniera migliore gli arrivi di piena dei due corsi d'acqua che confluiscono immediatamente a monte della cassa di espansione. La cassa di espansione chiaramente ha il compito di immagazzinare i volumi di acqua prima dell'arrivo al tombamento che poi attraversa l'abitato di Faella. Non c'è dubbio, i fenomeni meteoclimatici avversi sono sempre più frequenti. Il nostro territorio è un territorio idraulicamente abbastanza fragile e i cambiamenti climatici ci impongono di essere ancora più efficaci e più rapidi nell'esecuzione di lavori che possono proteggere gli abitati e proteggere i nostri territori. Il rischio idraulico dell'abitato di Faella, come testimoniato dall'evento dell'ottobre 2013, è dovuto alla presenza di un tombamento che subito a monte dell'edificato raccoglie in modo insufficiente le acque del borro di Rantigioni. Tutta la seconda parte dello scorso secolo, dopo il dopoguerra, Faella, avendo edificato in zona alluvionale, ha subito con un ritmo di circa 10 anni alluvioni dal Faella e dal Rantigioni. Il Rantigioni è il più grosso emissario del Faella, che poi si riversa nell'Arno. Mentre il contenuto del Faella viene riversato nelle casse pizziconi, il contenuto del Rantigioni viene riversato in questa grande cassa di laminazione che lo trattiene, perché non è tanto la quantità di acqua che scende, ma l'intensità. Sono le cosiddette bombe d'acqua, quindi l'acqua si riverserà quando arriva a livello nella cassa di espansione e non scenderà, come nella parte superiore sarà trattenuta da dei tornanti che appunto creeranno una cadenzatura della discesa delle acque.